Grazie a tutti Un onore farlo e farlo con voi è stato bellissimo Credo che sarà un'esperienza che porterò nel cuore Perché ho scoperto che è un po' il lavoro che sogno fare E quindi quando sono qui dietro questa scrivania Per queste due ore io sogno e sogno insieme a voi Perché quando chiudo gli occhi penso che Questo vorrei che fosse il lavoro della mia vita Grazie mille Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti